Buona domenica 26 marzo 2023, sono Loredana, vi do il benvenuto nel nostro portale di informazioni e notizie in un clic avete spostato l'orologio di un'ora in avanti per la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che continueremo a pubblicare nel corso della giornata e iniziamo con una notizia di attualità, girano gli allievi della scuola militare Teule Estero Auto Timmermans trovato l'accordo con la Germania sull'uso futuro degli FUELS ancora esternato a Sottenberg con l'adesione della Finlandia aumenta il confine della Russia giustizia, faraone chi dice che al governo ci sono garantisti, si faccia visitare uno bravo sondaggi porta a porta, fratelli d'Italia, primo partito in Italia ma il 5 Stelle è in crescita diciamo no, sono no, al rigassificatore di ambiente della regione toscana Truffa agli anziani come ci tuteliamo è per quanto riguarda lo spettacolo la notte della Taranta, Fiorella Manoia dirigente all'orchestra del concertone questo e molto altro potete trovare sul nostro portale di informazioni vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima rassegna loredana Grazie a tutti